Sono cominciati da due settimane sul versante sud del centro storico di Naso i tanto attesi lavori di messa in sicurezza finanziati dalla struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico con 1.377.000 euro. Un interprogettuale partito diversi anni fa e che adesso con la giudicazione del primo stralcio dei lavori alla ditta Pollara Castrenze di Prizzi è finalmente giunto alla fase attuativa. L'intervento più importante per la cittadinanza anche perché finalmente mettiamo in sicurezza il nostro centro storico che è il nostro centro dello sviluppo turistico e quindi del nostro futuro. Dopo dieci anni e dall'inizio di questa trafila per arrivare alla progettazione e quindi all'inizio del lavoro di oggi finalmente appunto presentiamo alla cittadinanza quello che verrà fatto per dare anche tranquillità a tutti i cittadini. C'è questo primo intervento che mette in sicurezza la parte più alta della città per poi proseguire con altri interventi di consolidamento nella parte più bassa e ci sarà un secondo lotto che sarà quello definitivo e più importante che è in fase di progettazione e spero fra un paio d'anni che venga appaltato e quindi inizieranno i lavori fra un paio d'anni. Era il 2005 quando il movimento franoso accelerò la sua evoluzione con cedimenti e abbassamenti del suolo di oltre 10 cm l'anno situazione di pericolo che ha cambiato il volto del centro storico. Nel 2017 e nel 2019 si è infatti resa necessaria la demolizione del vecchio municipio e dell'ex archivio che insistevano sul fronte di Frana. Siamo felicissimi di aver visto finalmente partire i lavori anche perché come si diceva in precedenza l'iter progettuale e anche tutte le attività compiute per riuscire ad ottenere i giusti finanziamenti per realizzare quest'opera di consolidamento sono piuttosto risalenti se si pensa che la Frana ha avuto luogo nel 2010 e da allora che si è cercato di garantire la sopravvivenza di questo fantastico centro storico della città di Naso.